Siamo qui alla Maker Faire di Roma con Fabio di ST. Ciao Fabio, ci dici qualcosa di te e del tuo progetto? Ciao, sono Fabio, lavoro in ST e collaboro con ST per realizzare delle demo che sfruttano le nostre STM32 board. In questo caso abbiamo realizzato una macchinina che mostra interazioni di diverse board, la Nucleo e diverse Shield, tutte completamente programmate con i nuovi driver Arduino. Da quest'anno sono disponibili già sui nostri siti internet, puoi scaricare e cominciare subito a programmare con l'ambiente Arduino IDE. In questo caso la macchinina ha un microcontrollore, che è un F401, al quale si viene plagato una board che controlla due motori passo passo per lo sterzo e la trazione della macchina, una board Bluetooth, visto che abbiamo realizzato un'app Android per il pilotaggio della macchina e infine abbiamo aggiunto dei sensori di prossimità che per riconoscere ostacoli di fronte o laterale all'oggetto in modo tale da autostrezzare la macchina per evitare l'ostacolo. Ci sono due modalità di funzionamento, una Bluetooth e un'altra manuale, sfruttando il sensore sopra la macchina, più mi avvicino e più la macchina va veloce di conseguenza. Allora, grazie Fabio. Hai trovato facili da utilizzare i dispositivi ST? Assolutamente, perché appunto con i driver Arduino è molto semplice sia caricare l'ambiente che i driver, che con poche linee di codice puoi già scrivere le applicazioni abbastanza complesse. Questa qua è stata scritta in pochi giorni ed è abbastanza complessa. Comunque con poche righe di codice e con i nostri driver ci sono molti esempi, è facile cominciare a programmare anche per chi è un neofita della programmazione. Allora, grazie mille a Fabio e in bocca al lupo per il resto della Maker Faire. Grazie, ciao a tutti.